Il migliore, secondo me, per quel che riguarda i calciatori, non esiste un migliore. Esistono tantissimi giocatori che in determinati momenti della storia calcistica hanno fatto qualcosa di speciale. Non è rispettoso, secondo me, non è neanche bello e non è neanche giusto paragonarli e dire che questo è stato migliore di quell'altro. E quindi per me i migliori del calcio, della storia calcistica, sono stati Pelé, Scruif, Maradona, Zicco, Platini, Messi, Ronaldo brasiliano, Ronaldo il portoghese, Iniesta, Maldini, Pirlo, Baresi, Cannavaro. Ce ne sono stati tantissimi e quindi scegliere un migliore, secondo me, non sarebbe giusto. Per quel che riguarda i portieri, invece, in questo momento, devo dire che quello che ha fatto meglio è stato Courtois e negli ultimi due anni sta facendo veramente delle cose importantissime.